Pesero Wine Festival è tornato ad appassionare gli avventori di Villa Cattani-Stewart con la qualità e la territorialità di una quarantina di cantine protagoniste di una rassegna tornata dopo le fatiche di due anni pandemici. Tanti partecipanti ad approfondimenti e degustazioni spesso tradotte anche nella possibilità d'acquisto delle bottiglie in un proficuo dialogo fra produttore e consumatore. Questa è una formula che noi abbiamo sempre messo in campo già dalla prima edizione e proprio perché rientra proprio nella dimensione, cioè quella di un dialogo diretto col produttore e anche poi la possibilità per un avventore che non è un uomo di settore, che non è un ristoratore, che non è un sommelier di potersi portare a casa comunque un vino che gli ha dato un'emozione, che gli ha dato un piacevole momento e per cui noi abbiamo sempre voluto che ci fosse questa possibilità, cioè di poter anche acquistare la singola bottiglia. L'idea è quindi di portare delle realtà che comunque hanno uno sguardo attento verso la natura, uno sguardo attento anche verso la produzione, che quindi fa esaltare quei caratteri che sono l'unicità, il terroir, la localizzazione geografica, che è un'unicità che può legare appunto ogni produzione al luogo di origine per certi versi. E quindi l'idea è stata quella di unire un numero di cantine anche limitato per poter fornire anche, fruire diciamo in maniera idonea anche in questo periodo, per certi versi così difficile, di aziende che comunque hanno un forte legame con la territorialità. Pesaro Wine Festival ha dedicato poi spazio ai seminari con relatori d'eccellenza, quali Armando Castagno e Sandro Sangiorgi. Abbiamo poi oggi avuto Armando Castagno, diciamo i relatori storici che hanno accompagnato il festival dall'inizio, quindi Armando Castagno che ci ha parlato del terroir della Franciacorta, e quindi al di là diciamo del brand, del marchio Franciacorta, conosciuto in Italia non solo, insomma cosa c'è dietro, quella che è la sostanza oltre alla forma della Franciacorta, verrà Sandro Sangiorgi a fare la degustazione sensoriale, geosensoriale, e l'importanza diciamo della degustazione, dell'aspetto del vino, della tattilità, della sapidità, e quindi sempre grande successo di pubblico, sempre sono contento diciamo che le persone ci chiedessero a me a Gianluca anche in questi anni quando rifacciamo, quando rivengono Castagno e Sandro Sangiorgi, e quindi spero di poter continuare anche negli anni prossimi ad avere questo interesse, questo entusiasmo da parte nostra e ripeto anche da parte di questi relatori molto noti, rinomati a livello nazionale non solo, che ogni anno vengono qui e penso trovino un ambiente interessato e accogliente. Noi come organizzazione del Pesaro Wine Festival abbiamo sempre avuto un grandissimo piacere, abbiamo sempre speso tanto lavoro per far sì che la didattica di un livello molto importante venisse al festival. Abbiamo sempre di conseguenza avuto tantissime presenze, anche i seminari di ieri, di oggi e di domani sono già sold out da diversi giorni. È una volontà dell'organizzazione avvicinarci da quest'anno e anche per il futuro a tutto quello che anche nell'ambito didattico, scolastico, quindi scuola agraria in primis già coinvolta quest'anno, ma anche la scuola alberghiera. Quindi il prossimo anno noi abbiamo già in mente dei progetti che cercheremo di realizzare, quindi non facciamo promesse, l'unica cosa che possiamo promettere è quello che abbiamo sempre fatto fino ad oggi, cioè un grande lavoro, un grande impegno per poter portare in questa città dei risultati importanti per la gente e non solo per gli addetti ai lavori.